La commemorazione dei diffunti a Torre del Greco si conferma come sempre un appuntamento molto sentito in città. Anche quest'anno infatti sono numerosi i cittadini che si recano al cimitero per pregare per i loro cari. Secondo molti le condizioni sono ottimali in termini di ordine e pulizia, altri invece registrano piccole criticità su cui intervenire. Non manca l'appello al senso civico da parte di tutti. Li abbiamo ascoltati ai microfoni di TV City. Forse qualcosa è cambiato in meglio perché ci sta più pulizia. In questi giorni c'è grande affluenza. Eh certo, certamente sì, perché in effetti ognuno sente il dovere, il dovere e bisogno di recarsi al cimitero, almeno in questi giorni. È un momento importante di preghiera per i propri cari. Certo, è un momento importante di preghiera. Il cimitero è un luogo di preghiera, quindi non si viene per chiacchierare o per fare comunella, si viene per pregare. Un giorno anche noi saremo, questa è la casa comune, la casa di tutti quanti. Non aspetto la commemorazione dei defunti, vengo ogni settimana e oggi sono venuta a fare il mio dovere. Pulito? Ma abbastanza. A volte il problema dell'acqua, che ci sono delle fontanine per cui non funziona l'acqua, non esce proprio l'acqua, dobbiamo andare giù. Però tutto sommato va un pochino meglio. Il culto dei morti è molto sentito in questa città? Sì, sì. Noi ancora della vecchia generazione, perché i giovani di oggi, senza condannarli troppo, non sono come noi. Il culto dei morti è molto sentito in questa città? Sì, a tanto, vengono sempre, non è solo per il momento dei morti. Diciamo che in questi giorni c'è più affluenti. In questi giorni ci sono le persone che non vanno mai e allora vengono, già è qualcosa, è giusto. Per il cimile e la pulizia sta in ottima, siamo noi che non manteniamo tanto pulito. Ho notato che fosse messo male, almeno per il tratto che faccio io. Prima c'erano i gatti che si sentivano puzzoli di gatti, torno, torno. Adesso non c'è male, pare che sia migliorato un poco, però è la pulizia che manca. Adesso per questo ponte non l'ha trovato più pulito? Poco, poco. Quindi un appello all'amministrazione qual è? Un appello di guardare un po' di più al cimitero. È importantissimo il culto dei morti. però c'è gente che viene solo adesso. A volte i secchi sono molto pieni, a volte le strade dipendono dalle persone che mettono magari i lumini, che quella è la cosa che non dovrebbero sicuramente mettere, perché non fa altro che fare sporco, non c'è bisogno di mettere la luce così. Per il resto purtroppo c'è chi è ordinato nelle sue cose e c'è chi invece non lo è, anche il cittadino oltre all'istituzione. C'è l'istituzione e c'è il cittadino che fa parte anche dell'istituzione e dovrebbe capire certe cose. Quindi bisogna sempre appellarsi al senso civico di ognuno di noi? Certo, di ognuno di noi, perché se non c'è quello, noi siamo quelli che abitiamo, noi siamo quelli che frequentiamo e bisogna avere una certa cura di tutto, perché è tutta roba che appartiene anche a noi. Vedo dei miglioramenti che sono stati fatti, prima c'era molto più immondizia, più degrado, le erbe venivano tagliate molto raramente. Speriamo che sempre così e non solo alle feste dei morti. È un momento veramente di trasporto proprio verso le persone che non ci sono più, quindi reputo molto molto importante questo giorno. Quest'anno il cimitero è pulito, puliscono tutti i giorni e i spazzini, ogni volta che buttiamo i fiori, loro vengono a pulire. È doc quest'anno. Una nota positiva rispetto agli anni scorsi? Sì, sicuramente. Sono un po' sporche le condizioni, bisognerebbe migliorare la cosa. La cittadina ha altre richieste da fare al comune? Un po' di viabilità, qualche parcheggio in più, che la macchina non si può mettere da nessuna parte, stanno tutti a pagamento, un parcheggio libero ci vorrebbe, ci sta un sacco di campagna libera qua, bisognerebbe fare qualcosa.